Sai dirmi qualcosa di te? Chi sei? Da dove vieni? Sai dirmi il tuo nome? Io non ricordo niente. Primo giorno. Alzati e si raggiante. Cos'è questo posto? Benvenuto alla radura. Che ci ha messo qui? Non lo sappiamo. Cosa c'è lì fuori? Non potete tenermi qui. Non puoi andare via. Perché non mi dite che c'è lì fuori? Il labirinto. Ogni mattina quando quelle porte si aprono, i velocisti cercano una via d'uscita. Nessuno è mai sopravvissuto a una notte nel labirinto. Che gli succede? Noi li chiamiamo i dolenti. Non dovremmo essere qui. Qualcuno l'ha costruito. È ora di scoprire contro chi combattiamo. Tu non sei come gli altri. Sei curioso. Che diavolo era? È il primo vero indizio che hai trovato. Chissà dove può condurci. È una ragazza. Thomas. Tutto è iniziato a cambiare quando sei arrivato tu. E se fossimo qui per una ragione? Le porte non si chiudono! Sono qui. Continueranno a tornare finché non saremo tutti morti. Usciamo adesso o moriamo provandoci. Non hai capito? Siamo già morti. Sei sicuro? No. Non possiamo andare. Non vogliono. Non writ号iam. Sdiich lunge. Ni sorm Тогда. Non. No.